Seguiamo nella nostra ricognizione tra i leader politici alle prese con la scelta da fare rispetto alla presenza in campo dell'ipotesi ormai concreta del governo Draghi, nella sede di Fratelli d'Italia, come si vede dallo sfondo, c'è Giorgia Meloni che ci ascolta, buonasera, e con lei c'è Andrea Molino. A te Andrea. Sì, buonasera. Ecco, avete fatto una prima riunione di centrodestra, la posizione resta la stessa, lei però ha detto che non ci sono alternative al voto, cioè non c'è una possibilità che ci sia una stensione o qualcosa di più nei confronti di questo governo. Lei si aspetta che ci sia una spaccatura del centrodestra su questa proposta? Guarda, io ho ripatito la posizione di Fratelli d'Italia. La posizione di Fratelli d'Italia parte da un voto contrario, per una ragione di non condivisione di quello che sta accadendo, sia su un piano di metodo che su un piano di merito. Io penso che l'Italia non sia una democrazia di serie B, penso che i cittadini abbiano tutto il diritto a scegliere, a decidere, penso che questo valga a maggior ragione se c'è un momento di difficoltà, e penso che noi possiamo prendere il Presidente del Consiglio più autorevole possibile, ma si troverà comunque a impattare con una situazione con la quale hanno dovuto fare i conti i predecessori, e cioè un Parlamento troppo eterogeneo per poter esprimere, diciamo, delle visioni, delle risposte coese, efficaci, forti. Cioè, se noi oggi mettessimo davvero insieme al governo, non lo so, Forza Italia e il PD, quale politica economica faremo verso le aziende? Quella di chi vuole abbassare le tasse, come chiede il centrodestra, o quella magari di chi vuole mettere la patrimoniale, come chiede l'EU? Se mettessimo insieme al governo il PD e la Lega, quale sarebbe la politica migratoria che poi verrebbe portata avanti? Cioè, a queste domande, nessuno risponde, ovviamente, ma siccome poi dal Parlamento si passa, questi problemi arrivano. Quindi io non sono favorevole e ho ribadito che non c'è alcuna possibilità che Fratelli d'Italia sostenga il governo Draghi. Chiaramente credo nella compattezza del centrodestra, ci ho lavorato forse come nessuno in questi anni e credo mi si debba dare atto di questo. So che ci sono altri che hanno altre posizioni. Io ho proposto una possibilità di incontro, diciamo, di mezzo passo verso l'altro di tutti quanti con una astensione solo nel caso in cui lo faccia tutto il centrodestra. Sono disposto a fare io mezzo passo verso il centrodestra, se il resto del centrodestra fa un mezzo passo verso di me. Anche perché mi perdoni, ma attualmente ricordo che il Movimento 5 Stelle, per quanto ci si possa fidare il Movimento 5 Stelle, dichiara un voto contrario al governo Draghi. E quindi, voglio dire, ci troviamo in fronte a una situazione nella quale, se ci fossero dei pezzi di centrodestra che sostengono il governo Draghi, sarebbero quei pezzi di centrodestra a garantire l'esistenza del governo Draghi e quindi a impedire che si possa andare alle elezioni, che è l'unico scenario rimasto nel caso in cui non si dovesse materializzare questo. E francamente sarebbe un po' distonico con tutto il lavoro che abbiamo fatto fin qui, dicendo sempre tutti che su una cosa eravamo tutti d'accordo, che se gli italiani potessero votare sarebbero in grado di dare finalmente a questa nazione un governo che io credo sia quello che serve indipendentemente a chi vince. Un governo con un mandato popolare, un governo con numeri importanti, un governo con una visione coesa e non governi che devono mettere insieme tutto il contrario di tutto e per quanto possano essere bravi alla fine fanno sempre compromessi a ribasso. Quindi uno strappo in questo caso sarebbe recuperabile se una forza del centrodestra sostenesse questo governo? Ma guardi, è già accaduto in passato che, diciamo, pezzi del centrodestra, a parte noi che siamo tristemente monogami, come si sa, e un po' rigidi, nelle alleanze gli altri è già accaduto. Certo, ricostruire non è mai stato facile. In questo caso noi stiamo parlando di, comunque, partiti che andrebbero al governo col Pd, con Renzi. Cioè, io considero che questa gente sia responsabile del disastro di questi anni. Anche Renzi, che oggi viene salutato come il grande protagonista della politica. Persona che gioca a poker con la vita di milioni di persone. Perché tu non puoi dire oggi che sei contento di aver mandato il conte a casa senza ricordare ieri che eri contento di avercelo messo. Io non sono abituato a fare politica così. Poi, certo, in questa nazione delle volte pare che la furbizia valga più della coerenza, della giustizia, della lealtà e di doti che per me sono più significative, ma rimane che, insomma, andare al governo con questa gente, francamente, poi è sempre difficile ricostruire. Per questo io vorrei che non ci si arrivasse e sto lavorando per prevenire quel problema. E una sola domanda ancora, se mi permette, Meloni. Lei conosce un po' la Formula 1. Quando c'è impraticabilità della pista, entra in pista la safety car che resta davanti a girare, davanti alle varie auto, ai piloti, finché non ci sono le condizioni per riprendere il Gran Premio. Lei pensa sia possibile un governo che abbia l'astensione delle varie forze così da poter agire senza dover sottostare, evidentemente a posizioni opposte che ne renderebbero impossibile il cammino, però superando quello che è il limite che è stato imposto dalle parole del Presidente Mattarella. Non si può andare a votare, ha detto il Capo dello Stato, ed è il Capo dello Stato, per una serie di motivi, quindi bisogna creare le condizioni perché il Paese possa affrontare con un governo in carica tutte le sfide, pandemia, sfida sociale, recovery fund e anche la guida del G20. Pensa sia possibile? Guardi, Mentana, in questo caso adesso io seguo la Formula 1 così quando riesco, però penso che se in Formula 1 si dicesse che la pista è impraticabile quando in realtà non lo è, cioè la corsa si potrebbe correre, qualcuno direbbe che non sono d'accordo, che è quello che sto facendo io. Io non sono d'accordo sul fatto che non si possa votare perché la pandemia, perché ho trovato francamente questa ricostruzione un tantino, come posso dire, cioè decisa, anche sui tempi, perché i tempi del voto, francamente fare il parallelo col 2018, quando tutti sanno che nel 2018 non c'era una maggioranza, perché c'era un sistema tripolare, è un po' forzato, perché oggi tutti sanno che il giorno dopo del voto tu avresti un governo. Si può stilare la lista dei ministri in campagna elettorale se volete, esattamente come noi abbiamo ribadito diverse volte al Capo dello Stato, negli incontri che abbiamo avuto, che nel caso in cui lui avesse scelto di sciogliere le camere, noi avremmo dato la nostra massima disponibilità a mettere in sicurezza il recovery plan, il piano vaccinale, tutto quello che serve. Abbiamo dato la massima disponibilità, non è che serve necessariamente che ci si cali qualcuno dall'alto, perché io non mi sento una classe dirigente così irresponsabile come si vorrebbe raccontare, la politica è incapace di fare le cose, ho sempre dato la mia disponibilità a lavorare. Le duemila proposte che il Fratelli d'Italia ha formalizzato solo dall'inizio della pandemia, sono lì a testimoniarlo. Ancora aspetto qualcuno con cui fare un confronto pubblico su quelle proposte concrete per mettere in sicurezza gli italiani. La politica c'è, se si dà alla politica una possibilità di lavorare, chiaramente in condizioni per cui le regole sono uguali per tutti e ci sono regole certe, i cittadini decidono e vincerai o perderai, ma i cittadini decidono in democrazia, perché funziona così. Il governo dei migliori, chi lo decide? In democrazia lo decidono i cittadini. Poi, per carità, ci saranno persone più autorevoli e meno autorevoli, ma non si può decidere dall'alto, almeno nel sistema nel quale siamo noi. Quindi io penso che sia sbagliato l'assunto, non condivido l'assunto. Poi, se voi mi state chiedendo, ma se il governo Draghi mettesse in sicurezza il recovery plan e a giugno si votasse, parliamone, però mi si deve dire il giorno in cui si vota, la data. Se mi si dice la data, io sono disponibile a parlare di tutto. Cioè, la condizione che lei, Meloni, Giorgia Meloni pone a ascoltare e a esaminare la possibilità di un appoggio o di un'astensione rispetto al governo è che ci sia la data di scadenza. La data, non di scadenza del governo, la data delle elezioni. Guardi, la questione di astensione io l'ho posta, come le spiegavo prima, in rapporto, diciamo, all'unità del centrodestra. Lei sarebbe, forse sola, voterebbe contro, no? Sì, sì, io, fratelli d'Italia, voterebbe contro se fosse sola, cioè se si andasse poi alla fine, diciamo, ciascun per sé, ecco, in questa fase. Per cui io parto da un voto contrario. Dopodiché, ripeto, io escludo francamente che una personalità del calibro di Mario Draghi si metterebbe a disposizione per tre mesi. No, probabilmente lui non accetterebbe mai una condizione di questo tipo e quindi forse non era, cioè, non è la persona da chiamare per fare questo genere di ragionamento. Poi non lo so, perché io non ci ho ancora parlato, ci parleremo, penso faremo le consultazioni, andremo alle consultazioni, ci confronteremo. Però io non sono disponibile a parlare di niente che non sia elezioni. Poi, ripeto, mi si dice, no, guarda, le elezioni, abbiamo il recovery plan fra un mese, facciamole fra due mesi, facciamole fra due mesi. V'aiuto a fare il recovery plan? Vi aiuto, ma l'avevo già detto al Presidente Mattarella, l'ho annunciato che noi eravamo pienamente disponibili a lavorare su tutto, purché si vada a votare e si consenta all'Italia di non essere una democrazia di serie B. Ha ancora tempo o deve andare? No. No, non deve andare. Time out. Tempo scaduto. No, un'ultima, allora, velocissima. No, non ho più tempo, mi spiace. Vabbè, soltanto, allora, se... Lei, direttore, lei mi fa sempre così. No, io le voglio dire una cosa, che quando lei era in culla ci fu un governo, Andreotti 3, non mi chieda come faccio a sapere la sua data di nascita, perché lo sa benissimo, perché la so. Perché anche la sua. Sì, però purtroppo... La mia la sua è di Giovanna Tarco, questo dovrebbe dire qualcosa. E però ci fu un governo, c'era un governo, l'Andreotti 3, che aveva soltanto 258 voti dalla Camera a favore con 303 astensioni. E quel governo fu molto importante. Si può pensare che il governo Draghi abbia questi dati di nascita, non date, dati di nascita, e possa andare avanti? Beh, io penso che sarebbe un governo debole. Piaccia o non piaccia, non sarebbe un governo probabilmente con la forza di cui ha bisogno un governo in questo momento. E probabilmente, non lo so, ma ripeto, sto parlando di una cosa che non conosco, non è nella mia... Probabilmente neanche il presidente incaricato lo accetterebbe a quelle condizioni. Non sono convinta che sia diciamo quello di cui c'è bisogno, perché poi al di là della stensione sulla fiducia, il giorno dopo tu devi portare in aula i provvedimenti. E se Berlusconi vota a favore lei contro si rompe il centro-netto. E hai sulla carta più della metà del Parlamento... Aspetti che finisco di fare questo ragionamento, se no non la sento. Quando tu poi porti il decreto in aula e articolo per articolo lo devi, diciamo, e devi andare alla conversione dell'articolo e ci sono gli emendamenti e tu hai sulla carta più della metà del Parlamento che non è con te, la trattativa diventa infinita. È quello che sto dicendo. C'è il problema di questi governi che poi alla fine nella quotidianità del lavoro parlamentare vengono, purtroppo, c'è uno stilicidio quotidiano che li rende immobili per quanto possano essere bravi, capaci, autorevoli le persone, visione straordinaria. Il problema di questa legislatura, continuo a dire, che il Parlamento non è il governo, non è solo il governo, finora era anche il governo, perché Conte, Azzolina e compagnia cantante, ma poi c'è il problema del Parlamento e quello non lo risolvi se non sciogli questa legislatura e provi ad andare verso un'altra atteso che è cambiato il quadro e c'è ancora una legge elettorale che ti può consentire di avere una maggioranza. Ha colto il punto. Condivisibile o no? È stata chiarissima. Prova, ma lei può anche non rispondere a fare una domanda a De Angelis che non lo trattengo. Dilla, falla veloce. Eh vabbè, però dai. Vabbè, allora gli dica di no. Io l'ho conosciuto oggi, quindi non fa una figura. No, mi dispiace, però mi mette in difficoltà perché mi stai facendo fare una figura. No, da niente, se deve scappare. No, se deve scappare non voglio essere. E cosa ci fa? Non mi pare una persona che si impaurisce De Angelis. Guardi, direttore. Non è solito impaurire. Allora, delle donne politiche. la faccio. Siccome sono molto d'accordo con lei che il problema è questo Parlamento di questa legislatura che è difficile sciogliere, no? E infatti lei continua a chiedere il voto, lo chiedeva quando c'era il governo giallo-verde, chiedeva il voto, diciamo, e poi invece del voto è arrivato un altro governo. E durante l'altro governo anche lei chiedeva ancora il voto e adesso è all'ordine del giorno dinanzi all'emergenza un nuovo governo. Sono oriose. Dire al voto al voto davanti a una situazione in cui è evidente che è difficile sciogliere il Parlamento finora ha molto pagato elettoralmente. Però lei adesso è diventato un partito notevole di dimensioni. Ha anche più interesse ad andare al voto perché risconterebbe più grande. Un grande partito. Lei oltre ad avere interesse ad andare al voto però ha anche nuovi mondi di impresa che si rivolgono. Eh, dai, hai preso te. Fa pure la domanda dei tre minuti. Ho capito. Ok. Ok, quindi? Quindi, non pensa, non pensa, non pensa, non pensa, non pensa che, se mi fate un attimo, cioè, che ansia però, è che ansia, non pensa, non pensa che anche per rappresentare quei mondi, diciamo, che si rivolgono a lei, l'impresa, di mondi produttivi, lei dovrebbe assumersi la responsabilità perché è comodo dire al voto al voto e poi dire che gli altri sono un disastro. Ma lei poi ai suoi elettori che dice? Ho favorito la nascita di un disastro? Cioè, non è meglio che contribuisce a scriverlo il recovery plan? Per esempio? Domanda chiaressia. Ripeto, ho già risposto a tutte queste, cioè, a buona parte di queste domande. Punto primo, sono disponibile a scrivere il recovery plan se qualcuno mi chiede che cosa ne penso. Ho già mandato le mie proposte a Giuseppe Conte, sono state scestinate. Se Mario Draghi dovesse fare il suo governo e avesse più attenzione verso i partiti di opposizione nelle proposte che fanno, guardi, le mie proposte ci saranno sempre perché io ho la mia responsabilità verso gli italiani, me le sono sempre prese. E arrivo al secondo tempo, e arrivo al secondo punto. se si andasse ad elezioni io mi assumerei le mie responsabilità se gli italiani scegliessero di votare per la sottoscritta e per Fratelli d'Italia. Quello che voi non mi potete chiedere è di assumermi delle responsabilità in un contesto nel quale io credo di non poter fare bene perché per lavorare ci vogliono le condizioni. Io credo che nessuno con l'attuale Parlamento possa davvero lavorare nella pienezza delle sue funzioni. Credo che non sia sensato prendere una persona come Mario Draghi e metterlo alla mercè di Ciampolillo e credo che a maggior ragione lo farei io francamente. Quindi volete che mi assuma le mie responsabilità? Me le sono sempre assunte in tutta la mia vita De Angelis e lei mi è testimone perché segue la politica. Però io faccio le cose in cui credo. L'unica cosa che non faccio è vendermi per avere una poltrona perché bisogna avere per forza una poltrona e la poltrona non mi serve. O la prendo per fare qualcosa bene o non la prendo e me ne farò una rata.